Il numero vincente della macchina è 52.405, vince la nuova Ignis. È il numero 52.405, consegnato presso Fumagalli Calzatore, ad aggiudicarsi una Suzuki Ignis Hybrid, primo premio della lotteria di Natale di Sondrio. Una piazza Garibaldi gremita ha assistito ieri all'estrazione, piuttosto macchinosa, che ha lasciato i presenti perplessi per le modalità della procedura scelta, dei tre biglietti vincitori dell'iniziativa proposta dall'Unione del Commercio e del Turismo tramite l'Associazione Mandamentale e Sondrio Shopping. Oltre all'autovettura, impaglia anche una bicicletta elettrica del valore di 2.000 euro, vinta dal biglietto numero 76.812 e rilasciato da Ortofrutta Nazari, ed un buono viaggio di 500 euro conquistato dal tagliando numero 88.628 consegnato da Floricoltura Pedrazzoli. Un successo il concorso di Natale Sondrio 2018, testimoniato dai 188.671 biglietti distribuiti nell'arco delle feste sui 220.000 disponibili nei 200 negozi e pubblici esercizi del capoluogo aderente all'iniziativa. Lotteria che va a sommarsi alle tantissime iniziative natalizie messe in atto quest'anno anche grazie al sostegno e l'impegno del Comune di Sondrio. Un enorme successo di pubblico che è iniziato con l'accensione del Bosco Incantato il 2 e il 3 di gennaio e abbiamo terminato oggi con l'estrazione dei biglietti. Tutti gli eventi hanno avuto un ottimo riscontro di pubblico e ciò ci induce sicuramente a fare di più e a far meglio. Le iniziative hanno avuto un ottimo riscontro. Ho avuto dei feedback molto positivi da tutti, da un sacco di persone in città ma anche dei commercianti, artigiani per cui penso che sono tutti eventi che sono stati graditi dalla popolazione. Dalle tante persone presenti in piazza nessuno ha reclamato i premi. C'è tempo fino al 6 febbraio per i fortunati vincitori per poterli letterare recandosi presso gli uffici di Sondrio dell'Unione del Commercio e del Turismo in via del Vecchio Macello. Allo scadere del termine i premi non ritirati saranno devoluti in beneficenza all'Associazione Cancro Primo Aiuto Onlus.